Le imprese dei servizi immobiliari hanno bisogno di coinvolgere le giovani leve per garantire continuità al proprio business e formare le nuove generazioni di professionisti che magari vadano a caccia di giovani generazioni di clienti, perché no? Quindi la sfida è quella di vedere il mondo con i loro occhi, di comprendere i loro valori e di comprendere soprattutto il loro linguaggio. Solo così è possibile dare speranza e futuro alle nuove professionalità. Comprendere le nuove generazioni per creare aziende di valore è il titolo dell'ospice di Stefano Paschina che invitiamo a salire sul palco con un applauso. Grazie founder di ICS Simbiosis, scuola internazionale di Milano, a cui cedo volentieri il palco. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie a Gerardo di questa opportunità. Noi ci siamo conosciuti ormai vent'anni fa, ventidue anni fa. Mi vendete una casa in cinque minuti ad Alassio. Mi colpì la sua intraprendenza, la sua empatia. Riuscì a vendermi un sogno e chiudemmo l'accordo veramente in cinque minuti. Io ho sempre il ruolo di rompere e quindi anche oggi cercherò di rompere quella che è l'impostazione della giornata. Io mi occupo di scuola, ho fatto per vent'anni l'amministratore delegato dell'Istituto Europeo di Design e ho aperto le sedi di Madrid, Barcellona, San Paolo, Rio e a un certo punto ho convinto il mio presidente di fare una scuola per bambini, di una scuola di design per bambini. Li presentai il progetto e al momento di partire mi disse non si parte, mi licenzi, mi dia questa opportunità e mi faccia partire da solo. Per cui nel 2008 troviamo un accordo, venne liquidato con un'ottima liquidazione e partimmo per questa avventura con 18 bambini. Oggi è una realtà ICS di 1100 ragazzi e abbiamo costruito e stiamo realizzando un vero e proprio sogno. Mi piace iniziare con questa frase, con questo personaggio di Vittorio Zucconi, il lato fresco del cuscino, perché mi ci ritrovo a pieno, cioè come in tutte quelle notti calde, intrise di umidità, noi ci giriamo e ci rigiriamo nel letto alla ricerca del lato fresco del cuscino, proprio perché cerchiamo di trovare la soluzione a quelli che sono i problemi e cerchiamo di trasformarle in opportunità. Il mio ex presidente mi aveva fatto notare che in questo mondo esiste una marea di persone che si battono per l'innovazione, per la civilizzazione, per il cambiamento e mi disse è da lì che dobbiamo partire, dobbiamo partire da queste persone che vogliono in qualche modo rivoluzionare il modo di vivere. Ed è da questo presupposto che noi ci siamo dati questo payoff nella nostra scuola. Design, connect, become. Diventare i progettisti delle connessioni, perché questo è quello che serve. È una scuola all'obbligo di formare le nuove generazioni, perché diventano sempre più generazioni che sappiano fare le connessioni. Non esiste più la formazione specialistica nella quale si diventa specialisti solo ed esclusivamente di una cosa. Bisogna confrontarsi col mondo. Quindi partiamo dal progetto e guardiamo al futuro. Perché il futuro è l'unico luogo dove dobbiamo stare, dove dobbiamo guardare. Io ho scritto siamo ladri, perché siamo ladri di idee, siamo ladri di sogni, siamo ladri di progetti. Nessuno di noi può dire ho inventato questa cosa. Si parte sempre da un ascolto, da un'intuizione, da qualcuno che ci ha dato uno spunto e la sfida è quella di trasformarla in un progetto. Ma in una scuola essere ladri significa anche elaborare perché si possa restituire un qualcosa di più rispetto a ciò che abbiamo rubato, rispetto all'idea principale. Il passaggio che noi insegniamo ai nostri ragazzi è quella di passare dal sogno all'idea, al progetto e all'impresa. La settimana scorsa ho avuto un incontro con l'amministratore delegato della Bocconi e l'ho stuzzicato, l'ho provocato, l'ho quasi a un certo punto restizzito perché ho detto è possibile che in Italia non esista una scuola di imprenditoria? Cioè la Bocconi che è considerata la miglior scuola di management è una scuola di management, ma il manager è qualcosa di diverso rispetto all'imprenditore perché l'imprenditore è un sogno, il manager è colui che mette a sistema il sogno, mette a sistema l'impresa, però molte volte il manager dice non si può fare. Allora tutte le volte che io mi sono sentito dire non si può fare ho cambiato il manager. Partiamo dalla semplicità, io dico sempre che la creatività è trovare soluzioni semplici a problemi complessi perché la risposta è quella semplice. Noi abbiamo a che fare con bambini dal nido fino al liceo, l'ultimo anno del liceo. Ebbene le risposte più interessanti ci vengono dai bambini per un semplice motivo, i bambini non hanno mai paura di sbagliare, quindi mentre noi adulti pensiamo anche di fronte a una platea mi viene, ho fatto questa considerazione, la dico, non la dico, magari è qualcosa di sbagliato oppure magari è una cavolata, il bambino la dice perché non ha paura di sbagliare, la dice e molte volte attraverso questa intuizione si nasconde poi una genialità. Entrando un po' in quelle che sono le materie che facciamo, noi abbiamo cercato di, abbiamo degli obiettivi didattici da raggiungere, per cui il ministero, noi siamo una scuola bilingue, non a caso l'intervento poi le slide sono in lingua inglese, ma poi io le spiego in italiano perché tutti le possano capire. Quindi abbiamo degli obiettivi didattici da raggiungere, imposti dal ministero, dicevo, però dobbiamo attraverso il design trovare il modo di fare le materie in modo diverso. Allora noi facciamo bionica, la bionica è lo studio degli elementi naturali per arrivare poi all'applicazione industriale, quindi se io prendo un cavolo, un cavolfiore, se prendo un ramo, se prendo una foglia, all'interno ci trovo la serie Fibonacci perché in natura esistono già tutte le risposte a quelle che sono le domande e anche le sfide future. Dopodiché ci occupiamo di prosemica e quindi di spazi, ci occupiamo di distanze, la prosemica è proprio lo studio, è la comunicazione tra lo spazio e la distanza e andiamo a vedere quelle che sono le relazioni, così come poi ci occupiamo di come gli spazi possono essere interpretati, cioè noi in una scuola siamo abituati ad avere gli spazi tradizionali, quindi il corridoio e a destra e a sinistra le aule, questi corridoi lunghissimi che ricordano i corridoi di Shining, allora ciò che abbiamo fatto nella scuola è stato quello di movimentare e ciò che sta succedendo nell'architettura, ciò che sta succedendo nelle case, sono cambiati i bisogni, quindi io oggi vi voglio dare degli spunti, con il lockdown, con lo smart working sono cambiate le esigenze, parlando con gli architetti mi dicono che le case vengono progettate in maniera completamente diversa, quindi cambia il bisogno e a voi il compito di interpretare il bisogno della clientela. Parlando di spazi, noi si parla sempre di opportunità e tutte le volte che ci troviamo di fronte ad una scelta, mi riprendono perché mi dicono che sono estremamente positivo, ma nel bicchiere mezzo vuoto, io preferisco vedere non il bicchiere pieno, preferisco vedere il bicchiere vuoto completamente, perché lo possiamo riempire di nuovi stimoli e di nuove opportunità. il tempo, il tempo è una variabile fondamentale e i grandi scienziati dicono che il tempo non esiste, che è una pura invenzione, la relazione tra presente e passato e futuro, lo diceva anche Einstein, è una pura invenzione dell'uomo e il tempo è relativo, da qui la teoria della relatività. Però le nostre giornate sono scandite dal tempo, la nostra vita è scandita dal tempo, per cui dobbiamo dare un significato al tempo. E allora quando parlo di tempo mi piace mostrare questa foto, questo è mio figlio che oggi ha 26 anni e vive a Los Angeles, ha diverse start up, ma da ragazzo correva sui kart, correva con Leclerc, con Verstappen, con Kiwiat, guidava bene e c'era una grossa opportunità, ma non avevo i soldi per farlo continuare a correre in Formula 3, mi chiesero un milione. Però una volta lo riprendetti perché per un sorpasso, dicevo mi devi spiegare perché in prova facevi il sorpasso in un certo modo e invece in gara l'hai fatto in quest'altro modo. E lui mi spiegò, papà io decido il sorpasso in una frazione di secondo. E mi spiega sempre che il kart, lo sport, gli ha dato la disciplina, gli ha scandito le giornate. È un ragazzo che prende delle decisioni in tempi rapidissimi e proprio per questo motivo con mia moglie decidemmo allora, quando aveva otto anni, di affiancare alla disciplina sportiva, quindi al kart, lo yoga. Perché ci sono dei momenti in cui le decisioni vanno prese veloci e tutti ci facciamo dire che bisogna essere veloci. Ma ci sono dei momenti in cui le decisioni vanno prese lentamente. È opportuno anzi non prenderle, prendersi il tempo necessario e dire ci dormo su. Questa decisione la prendo domani, la prendo dopo domani, la prendo tra 15 giorni. Però la decisione affrettata in alcuni momenti o tempestiva può essere interessante, può essere sinonimo di successo, altre volte può portare, se non ben ponderata, o invece è un grosso problema. Andy Waller diceva sempre che da piccolo era spesso ammalato e i momenti in cui era ammalato erano momenti di grande intimità. A me è capitato due o tre volte di avere dei piccoli incidenti, sono stato in ospedale e poi la prima volta che ho avuto il covid, l'ho fatto tre volte, sono stati momenti veramente di grande intimità. Cioè stavo a casa 15 giorni e le ho vissute come una grandissima opportunità, mi sono visto tutte le serie televisive, facevo due mail al giorno, una al mattino e una al pomeriggio e nel frattempo ho progettato quello che poteva essere il futuro della mia azienda. Una volta un bambino mi ha detto ma perché non facciamo una scuola di abbracci? Perché si vive in maniera competitiva, viviamo in un momento di grande intensità e di grande competizione, di grande tensione oserei dire e invece le opportunità vengono fuori proprio dallo stare assieme, dalla diversità. Molte volte mi sento dire ma quello è diverso. L'essere diversi è un'opportunità, l'avere idee diverse è un'opportunità perché le idee diverse portano ad un confronto. Quindi questo messaggio di questa bambina perché non facciamo una scuola di abbracci, io la porto sempre appresso a me, perché non facciamo una scuola del confronto, perché non facciamo delle società nelle quali ci si confronta per poter crescere assieme. Le materie. Ci sono le materie tradizionali come dicevo prima e ci sono le materie che invece possono essere fatte in maniera trasversale. Io faccio l'esempio della divina commedia, me l'hanno fatta odiare dal ragazzo. Studiavo, ero bravo, la professoressa mi chiama all'interrogazione e mi dice, Paschina vieni qua, Messer Poscia. E mi dice chi è questo Messer Poscia? Cioè mi induceva in errore e dicevo perché? Tante volte mi sono chiesto perché. E poi ho realizzato che la scuola era impostata come scuola punitiva, da un lato il professore e dall'altro l'allievo. L'allievo che deve essere punito, deve essere indotto nell'errore oppure deve essere sottomesso. Invece noi vogliamo una scuola del confronto, per cui quando parlo della divina commedia io ho imposto che nella nostra scuola la divina commedia venisse fatta con la matematica, perché la divina commedia è prima di tutto un'opera ingegneristico-matematica interessantissima, perché ci sono le terzine, ci sono le indecasillabi sciolti, c'è la rima bacciata. E poi dentro questo progetto ingegneristico-matematico c'è questo grandissimo racconto che noi abbiamo deturpato, abbiamo depauperato. Poi succede che Benigni legge la divina commedia e la spiega e fa il pieno di ascolti. Allora ho capito che bisogna avvicinare la cultura alle masse, non tenere la cultura lontana dalle masse, bisogna istruire le persone, bisogna ascoltare le persone, perché anche la persona che ci sembra la più lontana da quello che è il nostro modo di essere, dal nostro modo di interpretare la vita, può avere delle conoscenze che noi non abbiamo. La Fiat, che ormai non si chiama più Fiat, ogni anno ci dà un prototipo di una macchina e ci chiede di pensare all'auto del futuro. Quindi noi lo facciamo, e qua c'è questa foto di questi bambini che entrano dentro la macchina e poi la progettano, perché progettando la macchina non è che si debbano sostituire i designers, i bambini fanno matematica, fanno ergonomia, fanno fisica, ma nella loro testa stanno progettando la macchina. Il nostro tema è la città leggera, la città che cambia. Quindi noi adulti quando pensiamo ad una città del futuro, la città del 2050, pensiamo ad una città senza auto. Tutti gli anni invitiamo i papà, per la festa del papà, a progettare la città leggera con i bambini. Ne viene fuori un progetto bellissimo tutte le volte. E c'era questo bambino che aveva realizzato questi due grattacieli bellissimi, collegati con uno scivolo, con un tubo che sembrava l'hyperloop di Elon Musk. Quando gli ho chiesto, ma come facciamo a realizzare questi due grattacieli? Abbiamo bisogno dei permessi, abbiamo bisogno dei soldi? E il bambino mi ha risposto, beh, per i permessi andiamo dal sindaco e per i soldi andiamo dalle banche. Quindi per il bambino la città leggera è una città senza burocrazia. Io ero convinto che la città leggera fosse una città senza macchina, ma il peso delle nostre città, della nostra vita, della nostra nazione è la burocrazia, è la difficoltà nel dover fare le cose. Le scuole hanno i laboratori e ogni tanto si sente dire questo è il laboratorio di scienze, questo è il laboratorio di matematica, questo è il laboratorio di cultura, questo è il laboratorio della letteratura. La nostra scuola sta dentro un laboratorio, questo è diverso, perché è un laboratorio costante, è un cantiere costante e le scuole migliori sono quelle che si reinventano tutti i giorni. Infatti noi siamo la scuola che non esiste, perché ciò che esisteva ieri non esiste più domani e questa è la vera sfida. Siamo una generazione, ma viviamo con le nuove generazioni e le dobbiamo crescere affinché siano dei ribelli, affinché non si facciano condizionare, affinché non si facciano mettere dentro una scatola, che è la scatola della vita scandita dal tempo. Nella nostra reception c'è questo cartello, fragile, maneggiare con cura, perché abbiamo a che fare con la ricchezza umana e come tale va trattata, perché è la vera ricchezza. Mi piace chiudere con questa frase di Ayrton Senna, che noi tutti abbiamo apprezzato, non esiste curva dove non si possa passare. Grazie. 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 Grazie.